Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar da parte mia Giorgio Rufrida e da tutto il team della formazione. Potete scrivere nella chat le vostre domande, se è inerente al tema che sto trattando cercherò di rispondere subito. Se invece la risposta merita un approfondimento vi scriverò un'email o vi contatteremo nei prossimi giorni. Il webinar verrà registrato e tra qualche giorno sul nostro portale troverete oltre alla registrazione l'attestato di partecipazione e la presentazione che mostrerò. Condivido quindi subito il mio schermo e direi che possiamo cominciare. Questa sera vedremo come produrre la documentazione per il progettino con i nostri software T-System e T-Quadri previsti dal decreto ministerial 37 del 2008. Ci focalizzeremo quindi sugli output e sui report che questi due software possono generare e che quindi possono aiutarvi nella realizzazione di questi progettini. Quindi parliamo di impianti fino a 6 kilowatt e sotto i 400 metri quadrati. Qui vi faccio vedere cosa è previsto e tabellato dalla CEI 02 attuale, in particolare i disegni elaborati grafici. Come vedete, anche se non c'è l'obbligo del progetto, per il progettino l'installatore è tenuto a fornire uno schema dell'impianto e quindi a dare al cliente e archiviare appunto quanto installato. La stessa cosa vale per la CEI 02 in inchiesta pubblica che si è chiusa l'8 novembre, quindi adesso il CEI ha la possibilità di esaminare tutte le domande che sono state fatte entro questa data e poi mandare in pubblicazione questa versione. Quindi anche in questa nuova versione per i progettini il responsabile tecnico dell'impresa deve fornire gli elaborati grafici. Questa sera quindi cercheremo di vedere come utilizzare i software della BTC per fornire questi elaborati. Quindi proveremo a disegnare uno schema unifidare, uno schema blocchi e un frontequadro. Ho messo qui un report della sovratemperatura del frontequadro che potremo realizzare. Quindi direi di passare subito ai software e vedere come generare questi report e questi schemi. Allora T-System è pubblicato nella sezione per i professionisti, strumenti, software di progettazione e preventivazione e c'è la pagina dedicata a T-System. Questa sera guarderemo T-System 8 che è la versione web del nostro applicativo di dimensionamento delle reti in bassa tensione. Invece qua in basso vedete la vecchia versione del T-System comunque aggiornata in termini di database per gli affezionati della versione desktop. Questa sera però vedremo il T-System 8. Avviando T-System 8 questa qui è la landing page dell'applicativo. La barra di menu è molto semplice, ricorda quella del set e l'abbiamo un pochino semplificata e vi faccio vedere subito le impostazioni che se modificate vengono utilizzate dal software dal prossimo progetto in avanti. Questo vuol dire che se, andiamo a vedere ad esempio le opzioni. Eccoci qua. Se voi inserite i dati della vostra azienda e li modificate, dal prossimo progetto in poi verranno utilizzati questi dati. Questo vuol dire che in un progetto già salvato e generato precedentemente a queste modifiche i dati non vengono toccati. Questo vale per i dati impianto, quindi se modificate il, non lo so, ad esempio la tensione di esercizio di default o la caduta massima totale dell'impianto o la potenza del trasformatore di default, adesso è 400, se mettete 130, dal prossimo progetto in poi sarà 630, quindi non toccate, non modificate i progetti che avete già generato. Stessa cosa vale per i dati quadro e per la conduttura. Quindi se ad esempio di default abbiamo 10 metri, PVC, CU, verranno utilizzati queste opzioni di default. Per generare un nuovo progetto dovete cliccare nuovo. Per aprire un nuovo progetto, un progetto già esistente che vi ha passato qualche collega funzionario o qualche vostro collaboratore, dovete selezionare il file e è possibile importare sia file generati con il T-System 8 ovviamente che con la precedente versione T-System 7. Nel cloud invece avete la possibilità di aprire i progetti che avete creato voi con la vostra utenza. Quindi un utente vede solo i propri progetti e per poterli condividere può sfruttare la funzione share che altro non è un link che voi potete poi incollare in un email, in whatsapp per inviare questo progetto, il vostro progetto a un'altra persona, a un altro utente. L'altro utente che riceve questo link genera una copia del progetto e non modificherà il progetto origine. Quindi di fatto si avranno due progetti e ognuno potrà lavorare sul proprio. Le altre funzioni sono il delete, cioè cancellare il progetto di questa riga in pratica. Il download perché voi potete anche generare un repository locale dei vostri file. Il duplica, potete duplicare un progetto per fare delle versioni, delle revisioni e che vabbè l'apri. Dopo li proviamo assieme. Le altre funzioni le proveremo adesso durante il webinar. Quindi io direi schiacciamo nuovo progetto e partiamo. Possiamo scrivere qui ad esempio webinar dl3708. Possiamo usare lo stesso nome del progetto anche nel nome del file, poi vedremo perché. Revisione possiamo mettere 0, la data possiamo mettere quella di oggi, 18 novembre. Scegliamo un sistema ATT, quindi stiamo ipotizzando un progetto con l'arrivo in bassa tensione. Quindi come cabina abbiamo semplicemente il PDC, punto di consegna. La distribuzione lasciamo quella di default, 15 kilowatt trifase come corrente di costruzione presunta e 6 kilowatt per quella invece monofase, sempre presunta. Opzioni di calcolo, prevediamo il differenziale, non regoliamo la magnetica e non regoliamo neanche la termica. Direi possiamo iniziare. Per i dati quadro invece, se lasciamo 898 chiaramente non potremo utilizzare protezioni con iene superiore a 125 ampere e regolabili, quindi tendenzialmente modulari di piccola taglia. Questo primo quadro lo potremmo chiamare già ABQ, avantquadro. Possiamo mettere disegnato da chi, approvato da chi è il numero del disegno, ma non ci interessa. Vi faccio vedere che potete escludere alcuni apparecchi, perché magari volete escludere qualche curva. Di default già abbiamo deselezionato la curva Z e la curva K, abbiamo lasciato solamente la B, la C e la D. Invece qua nella carpenteria, una volta che avremo sviluppato il frontequadro con l'applicativo di quadri, qua potremo mettere tutte le caratteristiche del frontequadro. Iniziamo a sviluppare quindi l'avanquadro. Prevediamo magari tre interruttori generali, quindi cambiamo il primo apparecchio da magnetermo differenziale a collegamento morsettiera e inseriamo tre partenze. Magari proviamo anche il copy and colla, quindi ne inserisco due e poi facciamo la terza. Mettiamo tutto monofase, quindi torno sul punto di consegna, schiaccio il tasto destro del mouse, cambio fase e metto tutto L1N. Quindi adesso avrò tutto monofase. Quindi con questa funzione ho cambiato tutte le linee da L1, L2, L3N a L1N. Adesso seleziono la prima linea e scrivo, questo qui potremmo chiamarlo centralino abitazione, poi qui potremmo chiamare, questo lo potremmo chiamare wallbox e poi potremmo mettere un inverter, 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 potremmo mettere un inverter da 6 kilowatt, lo metto nella descrizione e poi vi spiego il perché. Selezioniamo già la taglia e lo facciamo per anche la linea 2 e anche la linea 3. Mettiamo tutti 32 A. Questa sera non metteremo IB, quindi non effettueremo un dimensionamento sull'IB, ma sceglieremo noi le letterature nominali e svilupperemo noi lo schermo anifilare. Adesso sto scegliendo dei 32 A di tipo selettivo e adesso per il centrale dell'abitazione. Il nostro avanquadro è finito, poi potremmo mettere anche un SPD. Eccoci qua. Ok. Questo qui è il nostro avanquadro, vi faccio vedere lo schema blocchi, abbiamo il punto di consegna e l'avanquadro. Adesso mettiamo le distanze, vi faccio notare che se superiamo i 3 metri, T-System vi suggerisce di stare entro i 3 metri. Adesso selezioniamo la posa, mettiamo, potremmo mettere un multipolare, in EPR, in area libera. Perfetto. Quindi io sto simulando una distanza di 4 metri dal punto di consegna all'avanquadro e la norma mi suggerisce invece 3 e quindi adesso andiamo a vedere, proviamo a fare un calcolo. La C-031 suggerisce la protezione contro il controciuglio del cavo di collegamento può essere omessa solo se la sfunghezza non è superiore a 3 metri. Quindi torniamo al nostro punto di consegna e vi faccio vedere che se rientrando in quella distanza il messaggio sparisce. La stessa cosa vale per i 3 interruttori generali. Se io dovessi metterne un quarto, T-System vi ricorda che ne sono ammessi al massimo 3. Questo non vuol dire che voi non potete metterne un quarto ma è giusto che vi venga indicato. Quindi superato il numero massimo di 3 interruttori di linea vale della fornitura, va bene, previsto dalla norma C-021, è un messaggio non bloccante, un messaggio informativo, vi avvisa il software che avete superato i 3 generali consentiti. Quindi se lo elimino questo messaggio invece non viene mostrato. Adesso proviamo a sviluppare un secondo centralino in modo tale da avere tre rettangoli nello schema blocchi. Quindi io vado a mettere una nuova linea. Quindi fino adesso ho utilizzato la funzione inserimento in serie per inserire la linea 2 e poi ho usato due volte la funzione inserisci in parallelo. Adesso invece ho cliccato su nuovo quadro, quindi seleziono la linea 2, centralino abitazione e vado a cliccare l'interruttore di manovra che sarà il generale del quadro che stiamo per creare. Lasciamo la stessa normativa di riferimento 898. Qui lo potremmo chiamare, sì, va bene anche Q2 o anche Q1, ma quello che importa è centralino abitazione. Questo lo possiamo chiamare Q1. Ok, vi faccio vedere lo schema a blocchi. Quindi ho il PDC, ho la VQ e ho il Q1, centralino abitazione. Sì, è un po' piccolino, ma se zoomo lo vedete. Adesso inseriamo la distanza. Io dovrei aver messo 10 metri come default, ve l'ho fatto vedere prima nelle opzioni. Eccole qua, i miei 10 metri. Questa era la mia posa di default. unipolare senza guaina. Cu, PVC, incassato in parete isolante. Il calcolo verrà effettuato quindi sulla IN, siccome io volutamente non sto inserendo le potenze. Andiamo a fare quindi adesso lo sviluppo. Possiamo mettere qualche linea nel centrale di abitazione. Quindi schiaccio di nuovo collegamento in serie e potrei mettere delle partenze magnetotermiche differenziale per, ad esempio, prese. Possiamo mettere qua prese, luci. Possiamo mettere CDZ. Poi metto magari un generale di gruppo e qui potrei mettere router. e sicurezza. Per le prese vado a scegliere la IN da 16 e poi il software mi proporrà la protezione corretta in base alla corrente di cortocircuito calcolata sulla barra, tendenzialmente dovremmo avere dei BTDIN residenziali. Per le luci invece 10, lasciamo lo 003, poi eventualmente possiamo scegliere il tipo di differenziale. Vi faccio vedere come modificarlo. CDZ 16 e qua ci proporrà il 6A. Facciamo un calcolo e andiamo a vedere. Quindi qua ci viene proposto l'FA, quindi un BTDIN 45 e non il BTDIN RS. Adesso vi faccio vedere come escludere il BTDIN 45. Qua invece viene proposto sempre il 6A qui che qui. Quindi come generale qua andiamo a mettere un 10. e adesso andiamo in dati quadro ed escludiamo i BTDIN 45 in modo tale che il T-System possa calcolare i BTDIN RS che noi abbiamo messo, vi faccio vedere qui. Quindi io tolgo BTDIN 45 curva C, BTDIN 45 curva D. Per azzerare gli articoli, clicchiamo sulla funzione gomma, cancella. Se le schiacciamo, quadro selezionato, solo articoli. Andiamo a vedere. Ha cancellato tutto, tranne questo che avevo scelto e bloccato io. Quindi andiamo a togliere questo lucchetto e lo azzeriamo, lasciamo solamente la taratura IN 10 e facciamo e rilanciamo un calcolo. Ok. Andiamo a vedere la IN che c'è qui e gli apparecchi che ho tolto. Mi aspettavo un'altra cosa provo a rimettere i BTDIN 45 perché mi aspettavo un'altra in RS questo qua proviamo a rifare il calcolo allora messo gli FA, gli FA, gli FA andiamo a vedere non ci sono i residenziali non trovo i BTDIN RS adesso me lo appunto ma volevo cercare di capire il perché no, qua ci sono qua ci sono la corrente di cortocircuito è bassa mi faccio vedere sì no, mi aspettavo vabbè, lasciavo i BDIN 45 mi aspettavo i BTDIN RS me lo appunto io RS se invece qualcuno che è già utilizzato i system vede quello che non sto vedendo venga il suggerimento quindi adesso vi faccio rivedere lo schema blocchi è arancione perché T-System vi indica che c'è stata una modifica tra il precedente calcolo quindi qua c'era scritto c'erano gli articoli FN adesso sono diventati FA se rifate una verifica diventa tutto bianco le linee e lo schema blocchi metto intanto ecco qua mi sposto questo qua sto guardando ok allora forse il motivo potrebbe essere ok sto guardando nella chat sto partendo dal basso e vado verso l'alto forse il motivo potrebbe essere nella scelta di esposizione in questo caso guardiamo i due polibri allora ottimo suggerimento andiamo a vedere qui allora vado nel centralino abitazione dati quadro eccolo qua sì il cliente l'utente ha centrato allora io ho scelto due poli protetti io avrei dovuto scegliere modulo ridotto e quindi se io seleziono modulo ridotto vengono calcolati anche i moduli interi e anche i due poli protetti se invece seleziono due poli protetti t-system esclude i primi i primi due e quindi riproviamo a fare quello che ho fatto prima modulo ridotto apparecchi deselezioniamo bd in 45 e rifacciamo il calcolo siccome non sono bloccati prima di parlare abbiamo aspettato sì ha messo i gc quindi grazie al al cliente che ha centrato vado un attimo un'altra domanda l'interruttore sotto il contatore non sarebbe opportuno inserire solo il minotermico o realizzare sì 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 interessante allora andiamo sul sul sullo schema blocchi allora questo è l'arrivo pdc io so che da qui al mio primo quadro ci possono essere al massimo 3 metri il cliente dice ma non potrei mettere qua un generale sì lo può mettere lo mettiamo magno termico io lo facciamo calcolare la t-system se io calcolo qua è tutto bloccato quindi non cambierà nulla mi viene proposto adesso siccome non ci sono le IB mi viene proposto un 6A chiaramente così non è un limitatore quindi sostanzialmente va bene è chiaramente cioè va bene dal punto di vista formale ma non va bene dal punto di vista impiantistico quindi possiamo andare a prendere noi una taratura se abbiamo 6 kW di fornitura mettiamo anche qui un 32A e rifacciamo il calcolo chiaramente adesso ci mette un 32A più di 32A non passano ho comunque tre generali ora t-system se io dovesse aggiungere una quarta partenza non è più un quarto generale quindi io mi aspetto che quel messaggio che appariva prima non ci sia e infatti non c'è se torno indietro però ho dovuto ho dovuto comprare e installare un magnotermico che nel caso ci fossero solo tre generali quindi come abbiamo detto questo è un avantquadro centralino wallbox inverter questo qua si potrebbe evitare quindi rimettiamo il colamento morsettiera poi chiaramente se lo volete comprare è meglio per noi comunque se io rimetto il colamento morsettiera ora quel messaggio mi apparirà superato il numero massimo tra gli interruttori di linea a vale della fornitura prevista credo di aver risposto comunque alla penultima domanda chiaramente se la distanza di tre metri a volte non si può cioè non è bloccante perché non si può rispettare infatti se c'è un montante per tante palazzi cioè per tanti appartamenti e io ho quindi più di tre metri tra il punto di consegna perché fisicamente non posso avvicinarmi ulteriormente è non bloccante proprio per questo motivo quindi voi potete aggiungere qua nella descrizione o delle note e il calcolo comunque termica termina poi c'è un altro cliente che invece ha fatto più domande dico solo il nome Francesco ok qua i documenti di certificazione introduce il DM3708 beh introduce si è vecchiotto quindi ha introdotto e poi ci sono legati obbligatori quali tipologie di impianto sono oggetti applicazione si allora adesso magari al cliente Francesco o io o qualche collega più titolato magari se mi lascia l'email poi le chiediamo magari un contatto un numero telefonico e la contattiamo così almeno le diamo tutte le informazioni mentre adesso proviamo ad andare a generare appunto la documentazione che siamo in grado di produrre e quindi uno schema dell'impianto che è questo è importante perché se voi nel cloud quindi in dati impianto scrivete il committente praticamente potete usare il tsystem8 come repository come contenitore dei vostri progetti quindi se il cliente mettiamo qua committente Giorgio commessa 2024 underscore questa è l'undicesima ok quindi io ho queste informazioni adesso proviamo rifacciamo la verifica e proviamo a generare adesso io vi faccio vedere qualche report poi andremo a sviluppare il frontequadro supponiamo di stampare l'anteprima di stampa la facciamo in pdf salvo con nome creiamo creiamo una nuova cartella io direi 2024 11 18 webinar qua una sottocartella potremmo mettere report e salviamo in pratica voi potete lasciare al vostro cliente che quindi conserverà e voi potete salvarla localmente o lasciarla salvata nel cloud questa documentazione quindi se a distanza di mesi o anni il cliente Giorgio sottoscritto vi dovesse chiamare per fare un ampliamento ad esempio vi chiede l'installazione di un piano induzione o meglio la linea perché la linea per alimentare un piano induzione voi potete chiedere al cliente stesso o rigenerare se non l'avete già stampata rigenerare il pdf e verificare che il vostro cliente non abbia manomesso il vostro quadro non abbia toccato o un altro installatore non abbia toccato il vostro impianto che avete sviluppato appunto l'11 novembre quindi voi stampando questa sapete che è la revisione zero e quindi avete un riscontro se invece non stampate non consegnate a distanza di tempo queste informazioni non potete sicuramente ricordarvele e oltre a questo io adesso lo lascio qui nella cartella potete stampare anche lo schema blocchi da qui questo è semplicissimo però supponiamo di avere un locale tecnico oppure un io da qui potrei far partire un'ulteriore linea che va a un altro quadro e quindi avere uno schema blocchi più complesso però incominciamo a stampare questo io potrei fare l'anteprima di stampa salvo vediamo se qui mettiamo schema a blocchi andiamo a vedere quindi ho lo schema a blocchi ho lo schema unifilare stampiamo anche la stampa tecnica vabbè qua ausiliari magari non ce ne sono la carpenteria vabbè adesso è vuota ma poi la potremo magari questa qui la stampiamo in DXF abbiamo generato due pdf questa qui la stampiamo in DXF provo ad aprirla direttamente con un con il software che mi hanno dato in dotazione vi faccio vedere la qualità della della stampa che può essere comunque stampata anche in in pdf dopo la stampo anche in pdf è arrivata si sta prendendo un altro monitor adesso sposto subito eccolo qua è un CAD quindi un po' pesante però allora vi faccio vedere qua ci sono mi allontano faccio uno zoom out ci sono tre righe perché ci sono tre rettangoli nello schema blocchi quindi la prima riga rappresenta il punto di consegna io non gli ho messo tanti dati quindi c'è solamente il committente la commessa e il quadro in questo primo foglio qua c'è la leggenda e qua c'è l'unica linea con la distanza che avevo inserito provo a spostarmi tre metri il tipo di di cavo la posa e se invece mi sposto verso il basso ho l'avanquadro con le mie linee e la partenza torno un attimo a vedere il mio quadro ah ho lasciato la quarta linea infatti non mi tornava c'è la quarta linea che è un intruso però dopo è corretto che ci sia perché non l'ho più cancellata e invece sulla destra c'è lo spazio per incollare qua il frontequadro sviluppato poi con il modulo di quadri che vedremo tra un attimo e qua invece c'è il centrale dell'abitazione adesso proviamo a e quindi anche questo è un DXF chiaramente si può stampare il DXF si può modificare a differenza del PDF si ci sono i PDF che modificano cioè i problemi PDF che permettono di modificare il PDF però questo qua in realtà è proprio modificabile in ambiente CAD quindi sicuramente è un aiuto ed è un'esportazione di DXF più facile da gestire rispetto al T-System 7 che invece aveva i layer bisognava accendere spegnere un po' più macchinosa torniamo al browser e proviamo a sviluppare una di queste carpenterie sviluppata una carpenteria poi è facile anche sviluppare le altre allora il nome del file viene eletto dai dati impianto questo nome quindi l'abbiamo scelto noi underscore 0 rappresenta la revisione non lo metto nella cartella report torno su di un livello e lo metto nella cartella di progetto che abbiamo chiamato 2024 11 18 salvo e faccio partire T-Quadri allora T-Quadri è un applicativo desktop e quindi può essere avviato una sola volta vi faccio notare invece che se voi aprite un altro tab e ridigitate il l'URL il link del T-System voi potete lavorare su due progetti contemporaneamente e quindi fare copia e incolla da un progetto all'altro adesso la faccio un attimo veloce per farvi capire la potenzialità lascio un magnotermio differenziale metto una partenza vado nel progetto che ho fatto con voi schiaccio centralina abitazione copio il quadro torno nel nuovo tab seleziono la linea 2 seleziono la modalità nuovo quadro e faccio incolla quadro io se vado allo schema blocchi mi ritrovo il centralina abitrazione che ho creato con voi prima e quindi l'ho copiato da questo tab a questo tab il copia e incolla funziona all'interno dello stesso browser perché per ragioni di sicurezza non posso usare non posso incollare da un browser all'altro quindi se è stato usato Edge potete aprire T-System in due tab ma all'interno dello stesso browser Edge se invece utilizzate Chrome potete fare la stessa cosa ma non potete copiare tra Chrome ed Edge qua vi faccio vedere semplicemente che il quadro effettivamente è quello che che ho fatto con voi prima vado in dati impianto semplicemente per dargli un nome diverso test copia copia incolla faccio salva posso fare un calcolo e vi faccio vedere semplicemente che nel cloud ho due progetti l'ultimo che ho appena creato non ho messo la revisione infatti non c'è e questo webinar che invece ha la revisione 0 il nome che ho dato io quindi questo tab lo posso chiudere questo tab ah giusto non c'è il pulsante io non ho mai salvato si salva da solo 18.33 l'ultimo salvataggio se io dovessi fare una modifica posso fare una modifica ad esempio pdc punto di consegna punto di consegna e poi faccio un calcolo vabbè salvataggio è venuto con successo io faccio ok ho rifatto il calcolo così è tornato tutto bianco e l'ora è cambiata da sola indicando all'utente che il diciamo il salvataggio è avvenuto effettivamente con successo io ho inserito solamente una descrizione però vi faccio vedere che se dovessi chiudere il browser ok uno lo può fare per errore però se faccio ripartire t-system inizia la progettazione e vado nel cloud e apro il nostro progetto io mi ritrovo l'orario 42 e la descrizione ah no è qua sopra scusate e la descrizione cioè l'ultima operazione che ho fatto viene salvata quindi se può risultarvi magari lento se c'è una buona connessione non risulta lento però se avete una connessione pessima e può succedere perché può succedere è dovuto al fatto che ogni click viene inviato al server in modo tale da aggiornare il progetto che sta sul cloud proprio per evitare di perdere qualsiasi cosa quindi se io dovessi mettere la quinta linea ve lo faccio rivedere quinta linea e chiudere il browser vediamo se è il bello della diretta io torno qua vado di nuovo qui apro questo e mi ritrovo la mia quinta linea vi faccio vedere che l'undo è una funzione che ci hanno chiesto tante di quelle volte che non saprei contare ho perso il conto l'undo vi permette di tornare indietro quindi se io torno indietro e clicco una volta quella linea che ho inserito cioè l'ultimo comando viene 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 tolto e l'undo funziona tutte le volte che volete quindi voi potete fare potete fare quindi uno due tre quattro e se fate undo 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 e undo tutti i clic sono stati inviati al server ecco la latenza avete visto che c'è qualche millisecondo di ritardo è dovuto al fatto che c'è una comunicazione client server allora facciamo partire di quadri vediamo se c'è come inserisco il generatore con le sue protezioni può effettuare la stampa professionale dello schema aspetta facciamo una cosa allora come inserisco il generatore Vittorino almeno si è scritto così Vittorino può indicarmi il generatore non vorrei che se gruppo elettrogeno oppure che cosa comunque il GE è questo gruppo elettrogeno diciamo che per questi progettini il gruppo elettrogeno non non serve si gruppo elettrogeno ok come si inserisce glielo faccio vedere ugualmente lo posso anche inserire in questo progetto chiaramente lo capirà da sé però forse meglio no monofase facciamolo lo faccio al volo così rispondiamo alla domanda io apro il sistema facciamo un TN quindi ho la media tensione quindi ho il trasformatore faccio vedere solo come si inserisce io posso mettere il gruppo elettrogeno immediatamente al in parallelo generale oppure posso mettere lo posso mettere a valle del generale e fare poi la partenza due partenze in parallelo così potrei fare questo quindi ho la partenza che se sviluppo cambia anche il colore vi faccio notare le linee blu sono tutte sotto il generale quelle nere rimangono ad essere invece solo lato rete gruppo elettrogeno molto chiaro semplice alla prima applicazione ok sì grazie invece la domanda prima il T-System 7 può effettuare la stampa professionale dello schema allora parliamo di T-System 7 si fa il T-System 7 non ha la bisogna vedere cosa si intende per stampa professionale noi diamo il massimo dovrebbero essere tutte professionali però chiaramente questa è un'anteprima di stampa cioè quello che si vede a video e ce l'ha anche il T-System 7 questa si può chiaramente anche catturare con un programma qualsiasi per quindi generare questo schema blocchi anche la T-System 7 mentre la stampa in DXF è un po' più macchinosa quindi manca la stampa tecnica infatti uno dei plus del T-System 8 è proprio questa stampa tecnica che sì se la possiamo definire professionale perché è fatta veramente bene ok andiamo a sviluppare il frontequadro ci metterò veramente poco perché io ho lanciato T-Quadri un applicativo desktop schiaccio file importa da T-System 8 ok hanno detto grazie quindi abbiamo centrato allora facciamo subito la selezione del file T-8 quindi di fatto T-Quadri adesso importando il file di T-System 8 mi dovrà chiedere cosa vuoi sviluppare me lo chiederà se ci sono più di un quadro allora vi faccio vedere la domanda che mi ha fatta si è aperta nell'altro monitor scusate ho l'avanquadro e il centralino noi possiamo selezioniamo centralino e così poi lo modifichiamo se abbiamo tempo vi faccio vedere come fare una revisione 1 a distanza di un anno magari dalla vostra installazione Q1 centralino abitazione 7 dispositivi non ho niente da caricare mi sta chiedendo hai un file di progetto di T-Quadri che hai già sviluppato no dopo vedremo cosa perché ci fa questa domanda allora ho tutto il carrello di T-Quadri questo è un software molto semplice mi permette di inserire una carpenteria vengono filtrate le carpenterie in base agli interruttori che ci sono nel carrello chiaramente questi sono modulari quindi non ci sono filtri di fatto prendiamo un linea wall o un linea si un linea wall vuol dire quelli da parete prendiamo questo è un centrino di abitazione si possiamo fare un grosso una predisposizione e mettiamo il sezionatore lo possiamo mettere qui poi e tutti gli altri li possiamo mettere qui lascio una riga per magari mettere alimentatore del videocitofono o quello che volete o SPD e invece qua c'è il generale ed è il sezionatore e qua ci sono le nostre partenze anche qui si può subito fare un un record del frontequadro si può cambiare lo zoom perché poi questo può essere appunto preso e incollato ad esempio sia in pdf che in dxf nella stampa tecnica quella che abbiamo definito professionale e invece in tquadri ci garantisce l'elenco materiale e quindi quanto serve per effettivamente acquistare e per poi sviluppare appunto il centralino questo report comunque si può lasciare al cliente e serve anche a voi per capire che quello che avete fatto è quello che avete quindi sviluppato potete anche fare un controllo sulla sovratemperatura chiaramente è molto vuoto questo centralino quindi dissimo più di quello che 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 producono sono gli trottori che sono stati inseriti da me e quindi il check passa io salvo nella mia cartella il file mhq e vi faccio vedere poi perché ok io ho sviluppato la carpenteria e torno adesso in t-sistem 8 siete sicuri di voler uscire sì allora io torno in t-sistem 8 e supponiamo di essere contattati a distanza di un anno dal vostro cliente allora intanto questo qui non è il progetto che devo modificare però vado nel cloud prendo questo ah vi faccio vedere la funzione delete ok l'ho cancellato webinar questo è il nostro progetto vado nel nostro avantquadro e qui inserisco una nuova partenza e la chiamo piano induzione potremmo fare va bene piano induzione magari mettiamo un tipo F ecco così vi faccio vedere anche potremmo mettere un apparecchio possiamo mettere un 25 andiamo a prendere il tipo F ho cliccato per errore perdonatemi però vi faccio vedere come dati system si può andare sul catalogo online e eventualmente stampare la scheda tecnica istruzioni di uso e il disegno di WG diciamo che per il progettino non c'è bisogno di farlo ecco però il link in realtà può servire anche a voi per capire che cos'è questo che cos'è questo quindi ho cliccato su F ma se dovessi cliccare su A si aprirà quindi un link diverso quindi qua punta G23 A32 mentre questo qua G23 F32 quindi voi qui potete confrontare i due moduli differenziali l'F e il tipo A e vabbè prezzo voi avete poi i vostri sconti quindi questi sono prezzi di listino invece quello che volevo fare era prendiamo tipo F lo inseriamo e scriviamo quello che a me serviva ok quindi ho fatto 32 tac faccio un calcolo faccio ok faccio una revisione adesso non cambio la data ma cambio la revisione e faccio ok rifaccio la verifica quindi è tutto come prima ma mi hanno chiesto una modifica quindi il centro di abitazione ha una linea in più la posso mettere qui la posso mettere in fondo la possiamo mettere dove vogliamo adesso io risalvo il file perché voglio modificare il frontequadro quindi lo salvo lo metto nella cartella tsystem mi aiuta già cambiando il nome del file era 0 io ho messo in impianto 1 quindi vi suggerisco di effettivamente usare la numerazione della revisione così non soprascrivete e sapete che la 0 è quella che avete fatto al momento dell'installazione della prima installazione la 1 è la revisione facciamo ripartire i quadri e vediamo come non ripartire da 0 per fare la modifica anche al frontequadro e posizionarlo sulla carpenteria ti quadri sia ancora aperto nell'altro monitor io lo sposto e faccio in porta adesso a differenza da prima devo selezionare il file e il centralino e rispetto a prima carico un file mhq desktop webinar questo qui in modo tale allora non sono obbligato a farlo però se lo faccio non riparto da 0 mi ritroverò tutto quanto sviluppato e nel carrello una linea rossa perché è quella che ho appena aggiunto e non ho ancora posizionato quindi questo lo riconoscete è quello che avevo se vedete la numerazione è anche corretta quindi io l'ho inframezzato nella linea 5 ve lo faccio rivedere è la linea 5 piano induzione qui la linea 5 non è inserita ma lo posso fare adesso poi voi lo potete mettere dove volete chiaramente non dovete per forza metterlo in mezzo però se lo potete spostare chiaramente si sposta un altro colpo tac non so così 5 6 7 non so non lo faccio così e così vai non lo uso mai si vede 2 3 4 5 6 7 8 boom adesso facciamo un altro fronte cioè un altro report così forse forse prima non l'ho esportato perdonatemi però nei report quali possiamo fare fronte quadro ecco se non lo fate non potete ricordarvi a distanza di mesi com'era il fronte quadro io mi ero dimenticato di farlo e quindi non avevo perso questa informazione fronte quadro e li mettiamo magari qua la revisione facciamo 1 salvo perfetto quindi vi ho fatto vedere come poter modificare un uno schema revisionarlo vuoi salvare le modifiche ora sì quindi vado posso sì sì e anche qua posso mettere il versioning adesso vi faccio vedere come è stata cosa c'è nella cartella ve lo metto qui questa è la nostra cartella se la apro io vedrò una cartella report dove ci sono i report che ho generato e consegnato se faccio le cose fatte bene c'è la versione questo qui questo qui lo potrei mettere in realtà qui e fare così quindi la cartella report ci sono i report e invece qua ci sono i due progetti di T-System versione 0 e versione 1 e le due versioni del 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 centralino mancherebbe l'avanquadro vi faccio vedere anche come generare l'avanquadro nel frattempo guardo ah ok qua c'è riguardo gli scaricatori sì mettiamo uno scaricatore nell'avanquadro quindi lo apriamo non l'abbiamo sviluppato ma lo possiamo mettere direttamente a me non funziona si apre T-Quadri cerco il file T8 ok serve T-Quadri allora rispondo subito a una manodomanda c'è bisogno di T-Quadri 1.5 o superiore l'ultima versione è la 1.5.17 quindi vi invito ad utilizzare questa riguardo gli scaricatori sì allora prima di sviluppare mettiamo uno scaricatore andiamo qui andiamo nel T-System andiamo nell'avanquadro e mettiamo allora togliamo questa ecco possiamo fare così allora vediamo un po' potremmo togliere questa linea che non ci serve mettere uno scaricatore adesso ne scegliamo spd più magneto termico potremmo prenderne uno autoprotetto lo mettiamo qui questa linea non viene vista come generale quindi se io dovessi fare un calcolo mi viene dimensionata mi viene dimensionata da T-System e non viene quindi mostrato quel messaggio di aver superato il numero di tre generali in parallelo questo è quello che viene proposto voi chiaramente se cliccate qui ecco per questo potrebbe essere utile il link quindi mi rimangio quello che ho detto prima l'F10AC2 istruzioni d'uso scheda tecnica andiamo a vedere la scheda tecnica volevo farvi vedere un'altra cosa non è nella scheda tecnica vediamo se è istruzioni d'uso no volevo farvi vedere come servizi per te informazioni commerciali no assistenza tecnica no volevo farvi vedere un pdf con la scelta degli spd però in quella non c'è andiamo a vedere se in questa pagina non c'è istruzioni no però in ogni caso l'spd l'abbiamo messo quindi credo di aver soddisfatto la richiesta andiamo a sviluppare quindi allora per coerenza dovremmo andare in dati impianto e mettere revisione 2 non è obbligatorio però siccome abbiamo fatto una modifica l'abbiamo salvato conviene comunque farlo quindi io faccio questa modifica salvo nella nostra cartella la versione 2 un 5 build 8 il mio indirizzo mi è perfetto sì sì deve scaricare la 17 la 8 è un po' vecchiotta potrebbe funzionare anche con la 8 però sicuramente meglio avere la 17 così siamo allineati poi nel caso ci sentiamo domani poi c'è un'altra domanda sulla sovratemperatura ma ci arriviamo quindi lo sviluppiamo e poi facciamo la sovratemperatura ok l'ho scaricato andiamo ad aprire i quadri e facciamo file import dati sistem 8 import dati sistem 8 io vado qui apro il 2 questa volta non scelgo centrarino abitazione ma scelgo avantquadro non ho nulla da caricare e quindi me lo devo fare da zero la domanda che è stata fatta è viene preso in considerazione la lo spazio sì adesso proviamo a mettere un avantquadro impiccato quindi 4 quanto è 16 di vediamo di prenderne uno piccolino e vedrete che non passa la sovratemperatura allora con me così nuovo sì facciamo un potremmo fare un hydroboard supponendo che sia anche all'esterno da parete allora 16 vuol dire almeno 24 sì non ce l'ho il 16 c'è uno per 18 questo qua uno per 18 è quello più piccolo forse più piccolo per questo quindi io provo così non c'è bisogno di metterli dentro in realtà per fare le cerche della sovratemperatura però l'ho fatto allora è super pieno così non dovrebbe passare chiaramente è il bello della diretta è passato perché potenza dissipabile 40 e questi dissipano solamente 28 vabbè c'è andata però bene la percentuale però possiamo fare così possiamo fare così vediamo supponiamo di avere 40 gradi dei cavi eventuale potenza dissipata altre parecchi non abbiamo nulla vediamo così 45 sì allora diciamo che con la temperatura ambiente di 35 gradi questo hydroboard passa il il check della sovratemperatura diciamo che se lo mettiamo all'aperto all'ombra e però la temperatura ad estate a luglio alle 12 non lo so al sud 45 potremmo avere qualche problema quindi noi comunque lasciamo la temperatura media 35 ma vi faccio vedere con un hydroboard più generoso in termini di spazio che ci so avremo meno problemi allora rischiaccio i pacchetti siccome ho già filtrato l'hydroboard al massimo ne posso affiancare uno uguale prendiamo il 2x18 poi e poi cancelliamo la e gli spd li mettiamo qua si poteva farlo al contrario ma va bene così elimina carpentieri e pannelli si ok adesso se faccio il check della sovratemperatura chiaramente dissipa 51 quindi c'è più spazio la potenza degli apparecchi è sempre 28 a 40 non ho problemi a 45 no beh non ho più non ho problemi fino a 40 ho problemi a 45 quindi abbiamo guadagnato comunque 5 gradi se lo dovessi prendere ancora più grosso beh potrò arrivare a 45 gradi senza problemi dovrei aver risposto anche a questa domanda saluti sì qualcuno saluta perché giustamente il tempo è scaduto ah ed è il sì ok il cliente che vuole essere contattato vediamo se ho altre domande proprio in fondo l'ultima versione questa è la mia viene effettuata con solo numeri allora la verifica viene effettuata solo con il numero di moduli liberi grazie Roberto no mi dica se ho risposto se vuole qualche altra informazione il check della sovratemperatura è stata aggiornata alla normativa del 2022 quindi l'abbiamo recepita e dalla versione 16 in poi quindi 16 e 17 hanno già l'ultimo l'ultima normativa che è entrata veramente in vigore è da poco e quindi vi consiglio di passare alla 17 diciamo che è l'ultima che trovate qua quindi chi aveva la 8 se va in strumenti formazione potete aggiornare chiaramente tutti i software che utilizzate anche il T-System anche se state usando la versione deve essere caduta la linea qua perché vediamo sì anche se usate la 8 potete aggiornare la 7.1.8 di T-System per essere aggiornata l'ultima versione perché noi comunque stiamo continuando ad aggiornare il database e quindi se avete vecchi progetti potete modificare con il 7 per piccole modifiche oppure importare nell'8 e poi fare gli ampliamenti che volete invece il T-Quadri sempre software di progettazione T-Quadri sì mi ricordavo bene la 17 kit completo quindi si può installare su un pc dove non è installato T-Quadri o su una qualsiasi versione di T-System 1.5 quindi chi aveva scritto che aveva la 8 può scaricare doppio clic installa 1.5.17 non penso che ci siano gli scaricatori l'abbiamo messo 1 poi ci bisogna fare l'analisi del rischio e volevo cercare un pdf per farvi scegliere lo scaricatore più corretto potrò staccarmi un po' l'etrogeno come inserisco il generatore abbiamo visto T-System 7 abbiamo risposto no credo che abbiamo risposto a tutte le domande quindi vi posso salutare e ringraziare per per il tempo che ci avete dedicato ah c'è un'ultima domanda che arriva adesso adesso la morsettiva è obbligatoria no non è obbligatoria può essere messa in T-Quadri e se inserita in T-Quadri viene inserita poi nell'elenco materiale dovrebbe essere in pacchetti non so se ausiliari ed in ecco comunicazione mi segno anche questa e poi vi faccio vedere al cliente che l'ha chiesto come mettere la morsettiva no la morsettiva non è obbligatoria la si può mettere abbiamo morsetti che sono dimensionati sulla nostra officina di tradate quindi quello che noi proponiamo nel T-System è sicuramente corretto qua vi faccio vedere il simbolo nel cablaggio interno c'è il morsetto quindi questo qua è calcolato su quanto suggerito la nostra officina di tradate quindi sì il morsetto non è che è obbligatorio noi lo calcoliamo poi se si vuole mettere si deve mettere in T-Quadri qua però per il progettista viene indicato grazie mille arrivederci dai direi che possiamo chiudere qui e vi ringrazio